Nella legge di stabilità, nella finanziaria del governo, Renzi chiede all'Europa di poter stanziare altri 3 miliardi per l'accoglienza degli immigrati, dei clandestini, indebitando ancora più il nostro paese. È una richiesta allucinante perché sono costi altissimi per accogliere persone che non vengono nemmeno identificate e fra le quali potrebbero anche esserci dei potenziali terroristi. Quando invece la priorità in questo momento è evidente è investire risorse per la sicurezza dei nostri cittadini sia contro questi nuovi fenomeni legati al terrorismo ma anche sul nostro territorio dove furti nelle abitazioni sono ormai all'ordine del giorno. Noi abbiamo bisogno di presidi delle forze dell'ordine, abbiamo bisogno di pattuglie che sorvegliano il nostro territorio di notte e questi sono gli investimenti che andrebbero fatti e non un'insessata politica dell'invasione che mette a repentaglio la nostra sicurezza.